Ecco una possibile riformulazione del contenuto del link fornito in italiano Edoardo Stoppa Crolla. Isola dei Famosi un momento di grande emozione è avvenuto nell'Isola dei Famosi con il crollo emotivo di Edoardo Stoppa, uno dei concorrenti. La sua reazione ha scosso profondamente gli altri naufraghi e il pubblico, generando una forte ondata di simpatia e sostegno nei suoi confronti. L'incidente ha evidenziato la dura realtà della vita sull'isola, con le sfide fisiche e psicologiche che i concorrenti devono affrontare quotidianamente. Il pubblico ha potuto vedere un lato più vulnerabile di Edoardo, che ha suscitato una forte reazione di solidarietà da parte degli spettatori. Questo momento ha dimostrato la forza emotiva dello show e la capacità dei concorrenti di mostrare la propria umanità anche in situazioni estreme. La reazione di Edoardo Stoppa ha toccato il cuore del pubblico, evidenziando la sua autenticità e il suo coraggio nel mostrare le proprie emozioni in pubblico. L'Isola dei Famosi continua a essere una fonte di sorprese e emozioni intense per gli spettatori, confermando il suo status di uno dei programmi più amati e discussi della televisione italiana. Resta da vedere come questo momento influenzerà il percorso di Edoardo e il gioco nel complesso. Mario Cusitore, ex partecipante del programma Uomini e Donne, è di nuovo sotto i riflettori. Dopo la fine del suo percorso con Ida Platano, l'attenzione si è spostata sul suo rapporto con Cristina Tenuta. I due hanno iniziato a seguirsi su Instagram, alimentando voci di un possibile flirt. Mario ha negato tali voci, spiegando che si trattava di una semplice amicizianata durante una cena organizzata da Ernesto Russo. Tuttavia, la recente decisione di smettere di seguirsi su Instagram ha riacceso le speculazioni, soprattutto dopo i commenti dell'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Questo cambio di dinamica ha generato molta curiosità tra i fan, che continuano a seguire da vicino ogni sviluppo della vicenda. La storia di Mario dopo Uomini e Donne continua a evolversi, dimostrando quanto possa essere complicata la vita pubblica di chi partecipa a reality show popolari. La relazione con Cristina, vera o presunta, e la continua attenzione dei media e dei fan mostrano l'impatto duraturo di tali esperienze televisive sulle vite personali dei partecipanti. Mario, nonostante le smentite, rimane uno dei protagonisti più discussi, con il suo percorso che suscita interesse e curiosità ad ogni nuovo capitolo. All'Isola dei Famosi, la splendida Karina Sapsai ha dovuto abbandonare l'isola durante l'undicesima puntata. Il leader Kari ha introdotto nuove regole per migliorare le condizioni di vita dei naufraghi, ma le tensioni non sono mancate. Tra le sfide e le nuove nomination, Karina è stata costretta a fare le valigie e lasciare l'Honduras. La sua partenza ha sorpreso e deluso sia i fan che i compagni di avventura, che avevano sperato in una permanenza più lunga della modella. Nonostante il suo breve soggiorno, Karina ha lasciato un segno evidente nel reality.Karina, una delle concorrenti più apprezzate per la sua bellezza e personalità. Ha partecipato con entusiasmo alle varie prove e dinamiche del gruppo. La sua uscita prematura è stata causata non solo dalle dinamiche interne del gioco, ma anche da decisioni strategiche prese dagli altri naufraghi. Durante la sua permanenza, Karina ha stretto legami significativi con alcuni partecipanti. Creando momenti di affetto e tensione punto, l'esperienza di Karina all'isola dei famosi dimostra quanto possa essere imprevedibile e sfidante la vita nel reality show. La sua avventura, seppur breve, ha mostrato la sua capacità di adattamento e il suo spirito combattivo. La tensione tra Ida Platano e Mario è palpabile dopo la loro partecipazione al famoso reality show Uomini e Donne. I dettagli della loro relazione hanno tenuto col fiato sospeso milioni di telespettatori, creando un vero e proprio fenomeno mediatico. Mentre il programma si concludeva, molti si chiedevano se la loro storia avrebbe avuto un futuro al di fuori delle telecamere punto Ida e Mario hanno affrontato numerosi ostacoli lungo il percorso, con momenti di passione e litigi accesi che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Tuttavia, sembra che la situazione tra i due si sia complicata ulteriormente dopo la fine dello show. Le voci sulle difficoltà della loro relazione si sono diffuse rapidamente sui social media, alimentando la speculazione tra i fan punto alcuni sostengono che i due stiano affrontando una crisi senza precedenti, mentre altri sperano che possano superare le difficoltà e trovare la felicità insieme. La pressione mediatica su di loro è enorme, con giornalisti e paparazzi che scrutano ogni loro mossa alla ricerca di indizi sullo stato attuale della loro relazione punto nel frattempo, Ida e Mario mantengono un profilo basso, evitando di commentare pubblicamente la situazione. Il pubblico è in fermento a seguito delle ultime novità riguardanti Ida Platano e Mario Serpa, famosi protagonisti di Uomini e Donne. L'articolo esplora le recenti vicende che coinvolgono la coppia, suscitando grande interesse e speculazioni tra i fan dello show. Si discute dei dettagli degli eventi e delle reazioni dei due protagonisti, oltre alle opinioni del pubblico sui social media. La notizia ha generato una serie di dibattiti riguardo alla natura delle relazioni nate in ambito televisivo e alla loro autenticità. Alcuni si interrogano sul ruolo dei media nella vita privata dei personaggi televisivi. Mentre altri riflettono sulle dinamiche delle relazioni amorose nello spettacolo. La situazione attuale di Ida e Mario potrebbe avere ripercussioni significative sul pubblico di Uomini e Donne e sull'andamento del programma stesso. Nonostante le incertezze legate al futuro della coppia, i fan continuano a seguire con interesse gli sviluppi della loro storia, rimanendo divisi tra speranze di riconciliazione e accettazione della separazione. La vicenda rimane al centro dell'attenzione mediatica, alimentando la curiosità del pubblico e lasciando aperte molte domande sul destino dei due protagonisti. Aras, uno dei concorrenti, ha fatto delle dichiarazioni inaspettate riguardanti Arthur, un altro partecipante del reality show. Aras ha svelato informazioni personali su Arthur, causando un'immediata reazione di stupore tra i concorrenti e il pubblico. L'articolo esplora i motivi dietro a questa rivelazione e le implicazioni che essa potrebbe avere sullo svolgimento dello show e sulle relazioni tra i concorrenti. Si discute delle reazioni dei fan e del dibattito suscitato sulla privacy dei partecipanti e sull'etica della divulgazione di informazioni personali in un contesto mediatico. Alcuni si interrogano sulla legittimità delle azioni di Aras, mentre altri riflettono sulle possibili conseguenze per la reputazione e l'integrità di Arthur. La situazione potrebbe influenzare significativamente il clima all'interno dello show e la percezione del pubblico nei confronti dei concorrenti coinvolti. Nonostante le controversie, i fan continuano a seguire da vicino gli sviluppi dell'Isola dei Famosi, rimanendo in attesa di ulteriori novità e sorprese durante la stagione. La vicenda di Aras e Arthur continua a tenere banco nell'ambito mediatico, sollevando domande riguardo all'etica e alla responsabilità dei partecipanti e degli organizzatori dello show. Momento toccante nell'edizione attuale dell'Isola dei Famosi, dove il concorrente Edoardo Franco ha espresso pubblicamente la sua gratitudine verso Vladi, un altro partecipante dello show, durante una trasmissione in diretta. Franco ha condiviso commoventi parole di apprezzamento e riconoscimento nei confronti di Vladi, evidenziando l'importanza del suo sostegno e della sua presenza sull'isola. La sua spontanea manifestazione di gratitudine ha suscitato un'onda di emozioni sia tra i concorrenti che tra il pubblico, culminando in una standing ovation. L'articolo analizza l'impatto di questo momento emotivo sull'atmosfera dello show e sui partecipanti, mettendo in luce la reazione positiva dei fan e il dibattito suscitato sull'importanza della solidarietà e del supporto reciproco in un ambiente così impegnativo come quello dell'Isola dei Famosi. La situazione ha evidenziato la forza dei legami umani e delle relazioni interpersonali anche in contesti competitivi e isolati. Nonostante le tensioni e le rivalità presenti nel programma, episodi come questo dimostrano la capacità dei concorrenti di mostrare empatia e riconoscenza verso i loro compagni di avventura. La vicenda di Edoardo Franco e Vladi ha generato una valandia di positività e ha portato a riflettere sul vero significato della solidarietà e dell'amicizia non solo nell'ambito televisivo, ma anche nella vita di tutti i giorni.